Ci stiamo occupando di coronavirus, ci si occupa, ci si sofferma giustamente sui vari dati, sui vari aspetti epidemiologici, ma contemporaneamente, parallelamente a questi dati, vi è una situazione economica di tracollo, una situazione economica che ovviamente riguarda innanzitutto gli imprenditori, riguarda il mondo delle partite IVA, perché il contentino, le bricciole della 600 euro è davvero assolutamente insufficiente, un'offesa alla dignità non solo dell'imprenditore, ma di tutti coloro i quali ruotano del sistema che ruota intorno ad un imprenditore. Ecco perché ho voluto raccogliere il messaggio, il grido di dolore dell'ingegner Emanuele Villani di Taranto, che è un ingegnere e un imprenditore nel settore civile e dell'edilizia. Per capire dalla sua voce come si vive questa realtà e soprattutto quali sono le prospettive una volta che comunque questo maledetto virus terminerà. Buonasera, innanzitutto vorrei ringraziare il dottor Arabate per questa possibilità, perché come sempre dà voce a tutti quanti e quindi ci dà la possibilità di poter esprimere il nostro disappunto e anche ciò che sta succedendo. Io sono l'ingegnere Emanuele Villani e sono un ingegnere che lavora nell'ambito imprenditoriale sia civile che edile. Il mio studio in questo momento sta subendo la crisi perché tutti gli investimenti fatti nei precedenti anni stanno andando in rotoli proprio perché siamo fermi. Abbiamo dato atto al fatto che dovevamo fermarci, ci siamo fermati, abbiamo consentito ai nostri dipendenti di lavorare in smart working e adesso purtroppo, mio malgrado, ho dovuto usufruire della cassa integrazione per quanto riguarda i miei dipendenti. Prima la situazione, il nostro studio stava facendo tanti sforzi economici dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista di investimenti e questo noi lo facciamo di buon grado. Nonostante già le tassazioni, nonostante tutto, noi andiamo avanti. Questo adesso ci blocca. Ci blocca perché adesso lo Stato ci sta umiliando con il contentito di questi 600 euro, ma noi non vogliamo l'elemosina. Io credo che ogni partita IVA voglia essere supportato in maniera sostanziale e non in maniera ideologica o come presa in giro. Per cui noi non vogliamo il contentito, noi vogliamo incentivi dal punto di vista della contribuzione. Vorremmo non pagare i contributi per i dipendenti fino a un certo punto, per tutto l'anno. Vorremmo che fossimo supportati dal punto di vista delle tasse, dal punto di vista degli incentivi. Vogliamo solamente questo. Non vogliamo che adesso tutti i nostri sacrifici, di tutti gli imprenditori, penso a nome di tutti gli imprenditori di Taranto e del settore, non vogliamo che i nostri sacrifici siano buttati al vento. Per cui vogliamo che un supporto da parte delle istituzioni. Ingegner Villani, la cosa più umiliante, come lei ha detto, è che si è detto il Premier Conte che questi 600 euro serviranno a fare la spesa, come se le utenze, i fitti dei locali nei quali si svolge l'attività imprenditoriale, come se queste realtà non esistessero. Io ho seguito più volte, ripetutamente, i vari interventi che ho definito show di Conte, ma in effetti più di chiedere il sacrificio giustissimo agli italiani di rimanere in casa, ci mancherebbe altro, più di questo non si è fatto. Non si può dire che tutto andrà bene, restate in casa, senza intervenire. Faccio l'esempio della Germania. In Germania sono stati stanziati, dati alla mano per gli imprenditori, è stata stanziata una cifra di 5 mila euro nell'arco di tre giorni. Cioè dal momento in cui è stata fatta la domanda, al momento in cui vi è stata l'erogazione sul conto, sono passati tre giorni e stiamo parlando di 5 mila euro, non di 600 euro. Peraltro questi 600 euro non è che saranno appannaggio di tutti gli imprenditori. Voglio dire, un governo è vero che ha trovato una catastrofe dinanzi a sé come qualsiasi governo di tutto il pianeta Terra, però bisogna dare certe risposte che in Italia purtroppo non sono state date. Esattamente la situazione è proprio questa. Ripeto, bisogna che si intervenga con interventi decisivi, non con interventi palliativi o solamente per fare, lo dico tra virgolette, un po' di teatro. A noi il teatro non ci interessa, ci interessano i fatti, ci interessano gli interventi sostanziali da parte delle istituzioni, da parte degli ordini professionali, da parte di tutti. Siamo a disposizione, non vogliamo l'elemosina, bensì vogliamo degli interventi strutturali che ci consentino, una volta finita questa emergenza, come giustamente stiamo rimanendo tutti a casa, una volta finita questa emergenza vorremmo ritornare, vorremmo avere gli aiuti strutturali per poter andare avanti. Questo è quello che chiediamo, null'altro. Bene, e allora ringraziamo l'ingegner Villani per la disponibilità. Devo dire, è stato proprio lui a voler contattare la nostra realtà editoriale, proprio perché voleva far sentire e vuole far sentire la propria voce, che poi non è la sua voce così singolarmente, ma parliamo di un imprenditore, e quindi quello che lui dice è sposato e sottoscritto da tutte le realtà imprenditoriali che vivono questa realtà. Perché poi, parliamoci chiaro, ora il problema ancora lo si sta avvertendo, ma non in misura completa, ma quando passeranno altre 15 giorni, 20 giorni, un mese, è davvero il bubone esplode. Io concludo qui, ringrazio l'ingegner Villani per la disponibilità e per il coraggio, perché in questi momenti è davvero positivo e bello trovare persone che ci mettano la faccia, visto che molte volte oggi tutti sono leoni da tastiera, questa è la realtà di oggi. E comunque andiamo avanti, anche io ho la mia partita IVA, ho la mia impresa di comunicazione, vivo il dramma dei colleghi imprenditori, non vogliamo chiacchiere, non vogliamo show televisivi, non vogliamo sorrisini di circostanza. Vogliamo vivere noi, far vivere chi da noi dipende in un rapporto di subordinazione contrattuale e vogliamo nel nostro piccolo mettere in moto, rimettere in moto, quell'ingranaggio dell'economia del sistema Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.